Siamo tutti ragazzi con una Jeep d'epoca della Fiat, bellissimo, un Fiat Campagnola, un Fiat Campagnola, ecco, ecco qua, sono con mia sorella Benedetta, e c'è qua un Fiat Campagnola, la dedico pure a mia sorella, Benedetta, ecco lei, ecco qua, siamo a Cosenza, e c'è questo Fiat Campagnola d'epoca, Guardate cari amici, guardate, oggi, 26 marzo 2021, Fiat Campagnola d'epoca, guardate cari amici, guardate, Fiat Campagnola d'epoca, Vi farò un primo opinione se vuole pure mia sorella, ecco qua.